Hitler odiava tutti gli ebrei, tranne lui. Eduard Bloch fu un medico austriaco che venne risparmiato dal Führer in persona. Ciò avvenne perché prima del periodo nazista, il futuro dittatore, all'epoca solo un ragazzo, e la sua famiglia erano stati pazienti del dottor Bloch e quest'ultimo aveva cercato in ogni modo di salvare la madre di Hitler da un cancro al seno. Clara Polz non sopravvisse, ciò nonostante il Führer rimase sempre grato al suo dottore, facendolo mettere sotto protezione speciale dalla Gestapo e consentendoli di emigrare in America. Se l'argomento vi incuriosisce, trovate il video integrale sul mio canale.